Ritorni in aula, prima seduta del Consiglio regionale dopo la pausa estiva. In apertura le comunicazioni del Presidente Spacca sul tema delle centrali a biogas. Ai nostri microfoni capigruppo Ricci e Massi. Nessun caso di ebola nelle marche, risultata negativa al virus la paziente nigeriana di Civitanova, ricoverata all'ospedale di Torretti. L'assessore Mezzolani, le nostre procedure rigorose hanno funzionato. Rinnovato il Consiglio delle Autonomie Locali, il Sindaco di Fermonella Brambatti guiderà il CAL nei prossimi due anni, eletti vicepresidenti Giuliani e Celani. Verdicchio d'Oro 2014, presentata la 49esima edizione del Premio Nazionale di Enogastronomia di Staffolo. Patrocinato dall'Assemblea Legislativa, il riconoscimento sarà assegnato a capatti, cedroni e piatti. Bentornati all'appuntamento con l'informazione dell'Assemblea Legislativa delle Marche. Dopo la pausa estiva è tornata a riunirsi questa settimana al Consiglio regionale. In primo piano le comunicazioni del Presidente della Giunta, Gian Mario Spacca, sulle autorizzazioni alle centrali a biogas e biomasse. Gli impianti di produzione di energia sono da oltre un anno al centro di una complessa vicenda giuridica. Il Governatore ha definito limpide e trasparenti le scelte fatte dall'Esecutivo e ha sottolineato più volte il contrasto tra la normativa statale e la normativa comunitaria. Nessun commento invece sull'indagine aperta dalla magistratura per la quale la Regione risulta soggetto offeso. Alla relazione del Presidente Spacca è seguito un lungo dibattito in aula. Abbiamo intervistato due protagonisti del confronto, i capigruppo Mirco Ricci, Partito Democratico, e Francesco Massi, Nuovo Centrodestra. Credo che tutto sommato noi abbiamo rispettato le leggi che c'erano. Siamo in difficoltà sul piano energetico per alcuni settori, ma come l'ha anche detto in aula, il piano energetico delle Marche risponde adeguatamente alla necessità di realizzare energia rinnovabile. Insomma, ci sono da correggere un po' i traiettori, i percorsi, però complessivamente credo che possiamo, sia con le nostre leggi che abbiamo già nelle Marche, e anche con una chiarezza più ampia a livello nazionale ed europeo, uscire da questo impasse che ci condiziona già da diverso tempo. Il Presidente ha fatto un'utile ricognizione ancora una volta di quello che è avvenuto. Peraltro l'avevamo fatto anche noi nella commissione d'inchiesta, dove si erano evidenziati, secondo me, delle grosse contraddizioni nel modo di comportarsi del Consiglio e della Giunta regionale. Oggi spacca, lancia, credo, un appello al suo gruppo, alla sua maggioranza, affinché in Parlamento sia possibile la via postuma. So che questo crea grandissimi problemi, vedremo come va a finire, perché ci sono problemi giuridici, costituzionali, civilistici, molto molto complessi. Comunque siamo qui a dare una mano, perché parliamo comunque di uno sviluppo delle Marche. Nessun caso di Ebola nella nostra regione. È infatti risultato negativo il test al virus eseguito sulla paziente di Civitanova Marche ricoverata all'ospedale regionale di Torrette. Il protocollo di allerta per i casi sospetti adottato dalla regione Marche è scattato dopo che la donna nigeriana, rientrata da un viaggio nel paese di origine, aveva manifestato sintomi affini al virus. Le procedure rigorose per la gestione dei casi sospetti hanno funzionato. Queste le parole dell'assessore alla salute Mezzolani, che ha assicurato un costante monitoraggio della situazione. Il sindaco di Fermonella Brambatti è il nuovo presidente del Consiglio delle Autonomie Locali. Il CAL, che rappresenta i comuni, le province e le comunità montane, ha infatti rinnovato questa settimana il suo ufficio di presidenza, che resta in carica secondo la legge 30 mesi. Sono stati eletti vicepresidenti Piero Celani, presidente della provincia di Ascoli Piceno, e Fabrizio Giuliani, presidente della comunità montana Esino Frassassi. Ai nostri microfoni la neopresidente del CAL, Nella Brambatti. Secondo me il primo obiettivo è quello di rendere partecipi operativi in misura maggiore i membri della conferenza delle autonomie, perché a volte ho trovato, direi, una demotivazione nella misura in cui piovono sopra la testa del CAL e anche dei provvedimenti, che invece andrebbero studiati e meditati in maniera, direi, attenta. Ha raggiunto il traguardo della 49esima edizione il premio nazionale Verdicchio d'Oro. La manifestazione, patrocinata dall'Assemblea Legislativa, è stata presentata a Palazzo Leopardi e rappresenta una delle più longevi dedicate all'eno gastronomia di eccellenza. L'evento, ideato in collaborazione con l'Accademia Italiana di Cucina, si svolge a Staffolo e quest'anno è dedicato al tema Vino e cucina, un perfetto connubio nella storia antica e moderna. I vincitori del 2014 sono lo chef pluristellato Moreno Cedroni, il curatore della biografia di Pellegrino Artusi Alberto Capatti e la docente di Biologia della Nutrizione dell'Università di Urbino Elena Piatti. Le interviste al presidente Solazzi e al sindaco di Staffolo Patrizia Rosini. Questa iniziativa va anche oltre il vino perché giustamente promuove il territorio attraverso la promozione dell'enogastronomia e lo fa solitamente anche in questa edizione organizzando dei convegni di altissimo profilo. Quest'anno i partecipanti, i relatori al convegno sono una garanzia sicuramente di successo. Attraverso un premio premiare un intero territorio e i produttori di vino e coloro che ai prodotti gastronomici dedicano la loro vita e anche alla commercializzazione di questi prodotti è appunto forse il segreto di questa manifestazione così longeva che il prossimo anno diventerà premio internazionale. Cogliendo appunto il cinquantesimo anniversario si vuole dare un'ulteriore apertura a questo premio. Bene, tutto per questa edizione del nostro WebTG grazie per averci seguito, arrivederci.